Siamo all'interno dello spazio Cedit, del gruppo Florim, dove abbiamo creato questa installazione Hotel Chimera. Hotel Chimera è un luogo immaginifico che va a toccare i vari periodi del design del ventesimo secolo. Entrando ci troviamo subito di fronte alla Hall, che ho rivestito con le lastre Empatia, che ricorda l'art déco. Ritmo parla del movimento moderno e del lavoro di Annie Alberts. L'ho raccontato attraverso i tessuti. Radici racconta un periodo radical con questo richiamo all'animalier e ho utilizzato delle pelli. Colore ha un fondale dripping, racconta la contemporaneità iperdecorativa che stiamo vivendo in questi giorni.